Noemi signorile, una bella Italia, confitta solo al tie-break. Sì, bella a tratti, perché abbiamo giocato a tratti bene. L'ultimo set poi abbiamo cominciato abbastanza bene, poi siamo un po' calate e abbiamo perso. Ce l'avete messa tutta però, anche dei bei recuperi quando sembrava andata. Sì, 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 no, vabbè, quello sempre, provarci su ogni pallone, sempre. Poi è andata male perché abbiamo un pochino mollato e quindi siamo persi. Un po' di emozione per le giordi in una competizione così? Sì, sì, certo, quello c'è sempre, un po' di emozione, però comunque ormai siamo abituati a giocare in delle competizioni così importanti, quindi l'emozione un po' si lascia da parte. Dovevamo fare un pochino meglio verso la fine della partita. Grazie. 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 Grazie.